questa prossima multi ci dovrebbe essere qualcosa che ti piace allora ragazzi fai il fallo guarda! guarda la multi delle armi! guarda! 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 guarda la multi delle armi raga! la multi delle armi! sbancato! eccoci! dai! incrociamo le dita! boh grazie per il fallo! dai! una bella oma! prossima solta! eccola! l'arma di nuvi! questa vorrei fosse solo le mie di pull! forca miseria! dai! dai! oh mio dio! si è lanciato! eccoci! mi lancio! mi lancio! eccolo! oltre a... esatto! è arrivato eh! grazie! arriverà la CD2 un giorno! siiii! ce l'abbene fatta! 3... 2... 1... ok! vediamo! e fin qui! vediamo! andrebbe dico! 75! ok! 75! 76! 77! diola! 78! 79! yes! abbiamo vinto questo! dai! abbiamo vinto! 54! assurdo! andrei con la multi! possiamo andare! si! al massimo poi mi muovo di singole se... ok! non c'è bisogno! non c'è bisogno! potrebbe essere subito! ok! no! non c'è! l'epicaccia di Amazza Draghi e doppia... cioè... doppia mente! ansietta! mamma mia! mamma mia! perché non esce? mamma mia! cosa? vabbè! ci ho fatto la friendship al 10 oggi! oh! auguri! non c'è niente! auguri! non c'è niente! lei può tornare nello scapuzzino! oh! ma è l'ultima! ah! ok! va bene! eh! ti dio! mi sta bene! gigi! o gestamente gigi! va bene! gigi! mi sta bene! gigi! dai! via dai! facciamo! ultima multi del content eh! poi basta! oh mio dio! oh mio dio! tra l'altro non ho riso ancora la scommessa di prima però non vale eh! la vittoria è già prima ragazzi! oh! e ora! e ora! e ora è o è la Oma o è l'arma di Nuvillette! se è la Oma una la rifaino e vola! ah! ah! io ero pronta! questa magliancia ti stavo passi per salutare! ti stavo per salutare! però mi sentivo questa multi dal profondo del cuore! non... mi stava chiamandola multi! oddio! dai Nuvillette! oh! che schifo! va da uscire! vai! let's go! 5 stelle! siamo a pt 75! 76! Tignari! che gli mancava? 38! andiamo a 38! e dai Erli! siiii! si Erli! ce l'abbiamo fatta! oh! eccoci qua! l'avevo detto! entro la terza multi esce! e avevo detto! esce entro la terza multi! quindi! questo è 29! 30! che schifo! 31! pt 31! entro la terza multi! come avevo detto io! il predict del predict del predict! 31! pt 31! santa martina mi ha scritto franza! grazie per i follow su tiktok ragazzi! let's go! multi del 5 stelle! ci siamo! ci siamo! abbiamo la Oma! eccoci! yes! ce l'abbiamo! e abbiamo praticamente 50 pool nel banner di nuviletto adesso! siiii! l'abbiamo presa! andiamo a 67! e poi le singole! prima del pt! prima del pt! siamo a 58 adesso! siamo a 58 adesso! piccoli! ma non hai ansia! ma non hai ansia! bro! multi del 5 stelle! vediamo! 75! 76! ho garantito quindi ve la dedico dedichiamo alla community di Anji il nuviletto dell'account di Anvis che stava arrivando eravamo al garantito quindi facciamo preciso facciamo pandan l'ho trovata anche prima del dovuto a me non esca le ultime due Cammy grazie per il follow vediamo vediamo anche su Anji grazie veramente grazie per il ride sempre apprezzatissimo e adesso vi dedico questo gigabono eccolo 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 qua molti grazie per il follow via eccoci dai Uto 81 82 yes l'abbiamo vinta vai ciao Saku ecco oh mio dio oh mio dio sei a 77 no ti giuro ok deve essere a 77 adesso non mi frega niente ma perché altro deve essere noi perché noi siamo qui come se ci fosse il garantito non c'è non c'è ricordo a tutti alla regia e agli spettatori che non c'è non c'è il garantito eh ragazzi non c'è ok andiamo questa era un minuto ok 68 69 70 pure 71 72 73 74 75 no all'apri no no non è possibile non è possibile non è possibile ho detto se ne abbiamo notaglia Eli grazie vediamo vediamo becchiamo un 4 stelline Fabia grazie per i follow su TikTok ok che si fa è il momento della sua multi 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 è il 65 è lui è il suo 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 ok è il suo eccoci oh mio dio eccoci eccoci la lucetta ci siamo vediamo se ce ne sono due oh ah che ma noi volevamo un altro pyro noi volevamo un altro pyro però posso dirlo 4 stelle oh ecco anche Fischel eh ma Eli questi questi due pull rese indietro questa multi questa multi è costata 8 pull invece che 10 infatti quindi eh addirittura 8 costate 7 e mezzo se vogliamo dirla tutta 7 e mezzo eccolo è il primo di oggi l'abbiamo preso oh molto bene ed eccolo qua ah ehm sì il mio Bernardo è C6 40 40 sì 5 stelle palese oddio oddio come ha detto lui 5 stelle palese questo è 32 vediamo vediamo 32 questa 33 34 35 35 36 36 37 è l'ultimo daia C1 perfetto garantito garantito di nuovo zappa e ormai lui è un day all over cioè li fa fallire tutti i garantiti del mondo che bello garantito 50 50 50 io che riguardo il mio i miei punti mio dio ma ortina porca sua Eliana porca sua Eliana non è possibile no no io adesso prendo la nostra io prendo la conversazione no Eliana io non ci credo a parte inizio multi quindi aspetta no scusate un attimo scusate un attimo scusate un attimo io non ce la posso fare dov'è la chat con te dov'è la chat con te bestiaccia allora in alto spero in alto sì di sicuro voglio capire eccoci eccoci qua mi hai chiesto quando sei morta era prima che andassi a camminare eccoci qua ragazzi conversazione fra me e l'Eliana buongiorno buongiorno Eliana si fulla io non pronta a vedere che cing sul mio schermo non pronta a vedere che cing sul mio schermo l'ha scritto stamani l'ha scritto me l'ha scritto stamani vai andiamo ha detto vai ci siamo raggio dorato allora 75 76 77 non ci credo non ci credo tutte le volte che lo vedo nei vostri account portiamolo a casa e lo vogliamo doppio 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 lo vogliamo doppio allora 75 76 77 78 bam eccolo qua eccolo qua eccolo qua c0 ecco questo è il software e proprio eccolo dammi il tomo yes almeno questo sia il primo sì abbiamo presentato 78 78 eccoci eccoci il mio account il mio account oh però tu hai gincì uno questa è la c2 quindi andiamo a 80 5 stelle sul banner vediamo vediamo che cos'è 71 wow 72 73 73 74 se è lo skyward arp albi regali le 3 sub per arrivare a 25 75 farusan 76 77 linette ma cosa sta è già l'account di albi è già l'account di albi non ci si crede è già l'account di albi ho perso l'account con cui ti seguivo quindi ho fatto un altro bentornata matilde 78 no 79 mona we found mona albi ci siamo 75 76 77 77 78 io non ce la faccio 79 yes abbiamo vinto nell'account di albi ma parca trovi albi ti odio abbiamo vinto 5 stelle eravamo a pt cioè eravamo letteralmente a pt10 charlie grazie del palo aiuto aiuto non siamo a cosa sappiamo non lo sappiamo aiuto allora è rapidi 10 comunque nel dubbio oggi ti avete aiuto vabbè io posso dire che vabbè vorrei la vorrei la vorrei siamo a 20 quindi andiamo a 30 andiamo io ti giuro Alberto se lo vinciamo io ti giuro Alberto se lo vinciamo 75 76 77 78 79 oh gesù mio 80 no ok garantito perfurina siamo a pt20 5 good luck thank you oh my god pt15 guys i would like that it will my account ma non è nemmeno associare al mio account 16 17 18 pt18 win 50 50 a cacio ho trovato tutto a pt alto però non aveva mai vinto il banner army e invece gliel'ho vinto anche quella è una soddisfazione capite c'è di questi momenti più belli per me quando sui vostri account faccio ste cose bene bene io non ho parole io non ho parole non ho parole ragazzi no no way no way let's go no way very lucky molto nani let's go ok 76 ridimmi i predict se non lei vorresti abbiamo detto ottinghio deia ok ho il rosso lollete grazie per il follo 76 77 e a dica grazie per il follo 78 79 garantito pt20 esci subito alla faccia dell'esci subito alla faccia oh no ho detto esci subito vaga almeno siamo sicuri non abbiamo buttato via violet 800.000 pull eccolo infatti siamo al soft eccoci qua yes si violet aaaah wow 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 Grazie a tutti.